Salvataggio a buon fine per un cervo che era caduto nel canale che alimenta la condotta forzata della centrale idroelettrica dell'Iren in località Shambong di Exil. Il cervo, un esemplare maschio giovane, era stato avvistato da un agente del comprensorio alpino To2 che ha allertato gli agenti faunistico-ambientali della città metropolitana, il personale del Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco, che assicura il servizio Salviamoli Insieme on the Road, e il veterinario dell'Asleto 3. Il cancia a sua volta ha avvisato i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. L'animale è stato sedato tramite teleanestesia, imbragato con una rete e recuperato dal personale intervenuto sul posto, che lo ha poi liberato in un luogo idoneo in una zona protetta in località pellussiere di Ulx.